Da Bruxelles perché ancora con l'onorevole Vuolo si lavora per salvare il salvabile. Torniamo ancora sulla vicenda relativa all'aeroporto di Salerno. Ci sono ancora speranze perché voi continuerete a lavorare nonostante questo stop dato dalla Commissione Europea. Certamente io non sono una persona che si ferma al primo ostacolo. Già in effetti ho attivato quello che può essere il mio gruppo politico ma sicuramente lo farò attraverso gli altri italiani dei vari gruppi perché è una questione essenziale per quanto riguarda la provincia di Salerno non solo ma per quanto riguarda la regione Campania. Anche perché si sta parlando di uno scalo che alla fine ha un unico interlocutore. Quindi non è che siamo in concorrenza. Gesac è per Napoli, Gesac è per Salerno. E quindi andremo comunque ad incidere su questo. Nel frattempo però io vorrei tanto che la regione Campania si desse da fare perché se noi perdiamo questo treno il prossimo passerà tra dieci anni e quindi sinceramente non ho nessuna intenzione di perderlo. Quindi siamo ancora in fase di poter fare qualcosa, poi sarà il consiglio caso mai ad incidere su un semaforo rosso che in questo momento ha messo la commissione proprio perché non c'è attività all'interno dell'aeroporto. Onorevole volo alle spalle, abbiamo la città di Bruxelles, una città dove si vive bene, dove la qualità della vita è una delle migliori ma soprattutto c'è pochissimo traffico, tante bici, ecco tutti camminano senza inquinare, il trasporto pubblico che funziona, insomma un modello da seguire. Allora tra poco qui a Bruxelles stanno talmente restringendo le carreggiate delle strade per le auto che ci sarà soltanto un grande parcheggio dove parcheggiare oppure chi vuole entrare in Bruxelles deve pagare una tassa, ma loro stanno tendendo proprio di fare tutte le zone ZTL e al traffico pari a zero. È diciamo qualcosa che per noi è impensabile, però qui la mentalità c'è, la mentalità green c'è, non è sfrenata ma perché per la verità sono ben collegati sia attraverso… Un pubblico che funziona, una viabilità altrettanto e poi chi vuole usare il mezzo privato usa la bici. Sicuramente, infatti ci sono tram, c'è la metro che comunque gira tutta la città, ce ne sono corse di continui perché non è che dobbiamo aspettare un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora poi non passa, poi non arriva, no no, qui ogni cinque minuti… E cosa si potrebbe esportare? Lanciamo un messaggio al governatore De Luca in questo momento. Secondo me deve venire qui a Bruxelles, si fa un giro per i trasporti che ti offre Bruxelles e probabilmente forse si renderà conto che quello che è stato fatto fino ad oggi non andava. Un cambio di mentalità sicuramente, ma tutto è fattibile ed è possibile. Assolutamente, basta volerlo, basta volerlo e basta che poi ci siano gli interlocutori giusti affinché tutto questo possa accadere. Certo, nessuno ha la bacchetta magica, però tra i vari proclami che ci sono sempre stati io invece vedo che tutto ciò non funziona. Quindi un motivo c'è e penso che ognuno di noi si debba porre delle domande e darsi anche delle risposte. Ecco, un modo per avvicinare anche l'Europa ai nostri territori anche attraverso gli esempi e i modelli da seguire. Tutto questo non è impossibile anche perché attraverso il Parlamento europeo ci possono essere tante proposte e tante iniziative. Lei ne ha fatte già tante, speriamo che tante altre possano poi concretamente arrivare da noi. Questo io lo spero perché se vogliamo in tutta l'Europa del Nord e forse anche in alcune città del Nord Italia comunque già funzionano. Io ripeto, secondo me c'è solo bisogno di avere una visione, di aprire effettivamente gli occhi. Se riusciamo ad avere una visione di quello che può essere un mondo fatto più a misura d'uomo e che non regali tante difficoltà, penso che a questo punto come ci sono riusciti gli altri non capisco perché non possiamo riuscirci noi che siamo al Sud. Penso che i parlamentari dovrebbero tutti mettersi un po' al lavoro affinché questo possa avvenire. Certo abbiamo un buon governo in questo momento che ha la volontà di fare e di dimostrare, quindi con il governo centrale e con l'Europa che comunque dà delle possibilità, è vero molte volte chiusa su determinate cose, ma il tutto penso che debba essere una sinergia tra i governi, tutti i governi e anche con l'Europa. Quindi capire effettivamente dove è il problema. Anche perché poi tra tanti rivoli noi dobbiamo anche vedere cosa si nasconde e quindi incominciamo un attimino a dispiegare tutto e così capiremo meglio come stanno le cose. Questo è l'Europa, questo è il ruolo dell'Europa. Noi la ringraziamo per questa opportunità che ci ha dato per far conoscere alcuni aspetti. Ci vediamo poi prossimamente per aggiornarci su tutto il lavoro che lei sta facendo qui. Sicuramente perché noi non abbiamo avuto possibilità in questi anni, ma non per volere, ma per il fatto che comunque siamo stati chiusi e quindi non c'è stata questa possibilità neanche di comunicare un po' tra di noi. Io spero che questo lo possiamo fare per quest'ultimo anno in modo che facciamo conoscere quella che è l'Europa più da vicino e così perlomeno i cittadini avranno la possibilità nel 2024 di recarsi alle urne normalmente come fanno per le proprie amministrazioni, quindi per i propri comuni, per le proprie province e per le proprie regioni. E pensare, perché io penso che in questo momento bisogna andare a votare, qualsiasi sia il voto dato, perché si ha bisogno di avere forza in quello che si va a fare. E noi speriamo di poter spiegare sia il ruolo dell'Europa che il ruolo di un europarlamentare che sta in Europa, perché molte volte si dice che qui si sta solo per riscaldare la sedia, però è vero che riscaldiamo la sedia perché stiamo a studiare su quelli che sono i problemi, su quelle che sono le regole e su quelle che dovranno essere poi le direttive da poter dare. Quindi io vi ringrazio per questa opportunità che mi avete dato e ci rivedremo presto. E noi da Bruxelles vediamo la linea allo studio.